Valar Morghulis, qui e dalla cittadella, e oggi per il mio primo video andremo a parlare del mio personaggio preferito in assoluto, Tywin Lannister, lord di Castelgranito, scudo di Lannisport e protettore dell'Ovest, nonché due volte primo cavaliere del re e salvatore del prodo del re. Durante gli avvenimenti della serie, Tywin, ormai in la quagli anni, è uno degli uomini più importanti e potenti dei Sette Regni, e sicuramente il più ricco. Ma partiamo dall'inizio. Primo dei figli del lord di Castelgranito, Tythus Lannister, Tywin è l'erede della principale famiglia delle terre dell'Ovest. Durante l'infanzia è costretto a vedere suo padre e con lui l'intera casa Lannister, deriso e sottomesso dai propri alfieri. Così, mentre lord Tythus, debole e inadatto a governare, faceva perdere ricchezza e potere ai Lannister, Tywin crebbe consapevole di dover un giorno riportare la sua grande casata alla gloria di un tempo, dimostrando sin da piccolo una predisposizione alla leadership. Un primo esempio della sua audacia si ha quando lord Walder Frey propose il matrimonio del suo secondo genito, Eamon Frey, con la figlia di Tythus, Jenna Lannister. Questi accetta, pur essendo i Frey una casata inferiore, e inoltre Eamon non era neanche l'erede. Quando il matrimonio fu annunciato davanti ai lord dell'Ovest, l'unico che ebbe il coraggio di opporsi fu Tywin, che al tempo aveva solo dieci anni. Successivamente Tywin fu mandato come paggio da prole del re, dove divenne amico del futuro re folle, Eris Targaryen. Poi, quando durante la guerra di Eredo Nove Soldi divenne cavaliere, prese il controllo momentaneo della propria casata, rovinata dal padre, e, con l'aiuto del fratello Kevan, cominciò a ristabilire l'ordine tra i lord dell'Ovest, alcuni dei quali però pensavano di non doversi sottomettere a un lord debole come Tythus, e cominciarono a ribellarsi. Non avevano però fatti conti con il giovane Tywin, il quale catturò uno di questi lord ribelli, Wolderan Tarbeck, la cui moglie rispose catturando tre Lannister. A questo punto Tythus liberò il lord in cambio dei parenti, senza seguire il consiglio di Tywin di rimandarli indietro in tre pezzi, dimostrando ancora una volta la sua debolezza. Così i Tarbeck, insieme a casa Reyn, la seconda casata più potente dell'Ovest, insorsero contro i Lannister, sicuri di poter prevalere sul dinetto lord di Castelgranito, sottovalutandone però il figlio. Infatti Tywin prese in mano la situazione, e guidò un esercito contro i Tarbeck, sconfiggendoli. Poi assaltò il loro castello, e sterminò l'intera famiglia, estinguendo così casa Tarbeck. Nel frattempo i Reyn, guidati da Lord Roger Reyn, il Leone Rosso, sconfitti sul campo di battaglia, si rifugiarono nella loro fortezza sotterranea di Castelmer. Tywin, consapevole di non poter prendere il castello con la forza, ne sigillò tutte le uscite, ed allagò la fortezza, fogando così tutti i Reyn superstiti. La ribellione delle grandi casate Reyn e Tarbeck portarono così alla loro estinzione, e alla composizione della famosa canzone Le piogge di Castamere, dal nome del castello dei Reyn. Da allora nessuno usò più opporsi ai Lannister, grazie all'azione, forse un po' eccessiva, ma sicuramente molto efficace di Tywin, che al tempo era solo un ragazzo, ma che diventò presto temuto e rispettato in tutti i sette regni. Il solo udire le piogge di Castamere scoraggiava qualunque Lord ad opporsi a Castelgrenito. Quando Aerys divenne Re, nominò Tywin primo cavaliere, il quale a vent'anni era il più giovane della storia, e poco dopo, con la morte del padre, divenne anche Lord di Castelgrenito e protettore dell'Ovest, e sposò sua cugina Joanna Lannister, dalla quale ebbe due figli pressoché perfetti, i gemelli Cersei e Jane. Tywin a questo punto era l'apice del successo, era primo cavaliere del re, aveva un'amorevole moglie, una figlia che si diceva fosse la più bella dei sette regni, e un'erede che sin da piccolo prometteva di diventare un grande cavaliere. Inoltre, grazie alle sue abilità di governo, il regno prosperava, e chiunque pensava che Tywin fosse l'uomo perfetto per governare. Ma tutto ciò cambiò con la nascita del suo terzo figlio, Tyrion, il quale non solo era un nano, ma la sua nascita portò alla morte di Joanna. Per questo fu sempre disforzato dal padre, e da quel momento si dice che Tywin non sorrisse mai più. Inoltre, c'erano tensioni tra lui ed Ereus, cominciate con l'ossessione del re per Joanna, cosa che infastigliva molto Tywin. Poi il re iniziava ad essere invidioso del successo del primo cavaliere, tanto che quando venne a sapere che Eidin Payne, il comandante delle guardie di Tywin, se vantava che fosse il primo cavaliere a mandare avanti il regno, il re gli fece tagliare la lingua. La follia crescente del sovrano, innescata a sedizie della ribellione di Duskendale, portò alle due offese definitive nei confronti di Tywin. Prima Ereus rifiutò la proposta di Tywin di far sposare Cersei con il principe Regar, infrangendo così il progetto di Tywin di far di Cersei una regina. Poi privò Castelgranito del suo erede, prendendo Jaime nella guardia reale durante il torneo di Arrenon. A questo punto Tywin, stanco dei continui insulti da parte del re, che ormai aveva perso il senno, si dimise da primo cavaliere e tornò a Castelgranito. Dopo non molto tempo, il lord Capotempesta, Robert Baratheon, tiene inizio alla guerra dell'usurpatore, alleandosi con Stark e altri metalli contro il re folle, mentre Tywin rimase in attesa a Castelgranito, ignorando le richieste di aiuto del sovrano, fino a quando Robert non ottenne la vittoria decisiva sul tre dente, uccidendo il principe Regar. A questo punto Tywin si diresse verso a prodo del re con il suo esercito, dove Ereus, sotto il consiglio del gran maestro Paisel, aprì le porte della città, facendo entrare i Lannister, pensando che fossero venuti per proteggerlo. Invece, gli armigeri delle terre dell'Ovest saccheggiarono la città, e mentre il re Ereus veniva ucciso da Jaime Lannister della Guardia Reale, i sottoposti di lord Tywin uccisero la moglie e i figli del principe Regar, ponendo fine al dominio Targaryen. A guerra finita, Tywin consegnò i cadaveri dei bambini Targaryen al nuovo re Robert, in segno di fedeltà, e gli offrì in sposa sua figlia Cersei, che così diventò regina. Tornato a Castelgranito, continuò a governare le terre dell'Ovest in pace, fino alla ribellione di Belongreyjoy, che portò alla distruzione della flotta Lannister ancorata a Lannisport, la quale fu immediatamente ricostruita a ribellione finita. A questo punto Tywin era il protettore dell'Ovest e padre della regina, rispettato e temuto in tutti i sotteregni, e così ricco da prestare spesso soldi alla corona, portando alla popolare battuta che Tywin Lannister caga a oro. È qui che hanno inizio gli eventi della serie, che porteranno Tywin a scendere in guerra ancora una volta, guadagnandosi il titolo di Salvatore di Pro del Re, e per la seconda volta Primo Cavaliere del Re. Ma di questi avvenimenti e molto altro parleremo nel prossimo video. Per essere sicuri di non perderlo, iscrivetevi, mettete mi piace e commentate. Valardo Eres